Buonasera a tutti, in occasione dell'ultimo dell'anno onestamente non volevo fare un video ma inviare un posto così di auguri a tutti, però poco fa abbiamo ricevuto l'ennesimo finanziamento europeo da parte del Dipartimento dell'Acqua e Rifiuti per 1 milione e 80 mila euro per la realizzazione di un nuovo CCR, Centro Comunale di Raccolta. I comuni finanziati sono stati solo 17 in tutta la Sicilia e quindi è l'ennesimo finanziamento europeo che ci rende felici e orgogliosi soprattutto perché ormai i finanziamenti arrivati a Dele sono così tanti che facciamo fatica anche a elencarli. Se pensate che meno di un mese fa abbiamo ricevuto il finanziamento del teatro per un milione di euro quasi, una settimana fa i parchi giochi inclusivi 50 mila euro, se pensate che tre mesi fa la biblioteca 500 mila euro, il castello 200 mila euro, se pensate che in questo momento stiamo facendo lavori a scuola di ristruzione efficientamento per un milione una scuola, un altro milione in un'altra scuola, un milione al palazzo municipale, due milioni e mezzo al cimitero comunale, poi stiamo facendo la sostituzione di tutti i corpi illuminanti a led, abbiamo fatto la fibra ottica per 130 mila euro, la videosorveglianza per 243 mila euro, insomma una moltitudine di finanziamenti che ha portato Delia all'apice della regione siciliana come comune che ha intercettato finanziamenti europei in proporzione agli abitanti. Permettetemi di dirvi che è frutto di molto lavoro, di molto impegno, di molto sacrificio, di costanza e anche di competenza, perché i risultati non vengono così dall'oggi al domani ma c'è dietro tantissima mole di lavoro. E questo finanziamento oggi è arrivato all'ultimo dell'anno, è anche una cosa simbolica, cioè ci porta forza e ci dà maggiore speranza per il 2021, perché onestamente il 2020 è stato un anno molto difficile, un anno che ha visto a livello globale questa pandemia che ha creato diciamo un disastro e quindi il mio pensiero va a quelli che hanno perso i cari, a quelli che hanno sofferto, a quelli che sono stati ricoverati, a quelli che hanno perso il lavoro, a tutti quelli che hanno visto sconvolta la propria vita familiare e la propria quotidianità. Però ripeto, bisogna andare avanti, bisogna guardare con fiducia al futuro. Ed è questo che auguro a tutti coloro i quali mi seguono, ci seguono, di guardare sempre con fiducia il futuro, anche perché più in basso di come siamo arrivati nel 2020 non può essere. Quando si arriva in basso si può solo risalire e quindi è questo che speriamo si possa realizzare nel 2021. E vi lascio allora con un augurio, con una frase di Winston Churchill. Winston Churchill diceva il fallimento non è fatale, il successo non è definitivo, ciò che conta è il coraggio di andare avanti. E infatti il coraggio di andare avanti, quello che noi avremo anche nel 2021 come amministrazione, servizio ai cittadini, continueremo a lavorare perché siamo sicuri che ci risolleveremo tutti da questa 2020 da dimenticare per quanto riguarda la pandemia e tutto ciò che ha comportato. Un augurio a tutti voi dal profondo del cuore. Grazie. 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 Grazie.